Questa è la nuova Kodak PlaySport ZX5, una videocamera compatta che ha la caratteristica di essere impermeabile fino a 3 metri di profondità, nonché resistente alla polvere e alle cadute, dichiarato un metro e mezzo di caduta. Compatta, registra in full HD, non ha uno zoom ottico ma solo uno zoom digitale, e uno stabilizzatore anche su digitale. Sicuramente semplicissimo. Questi tasti permettono specialmente di passare dal scattare foto a registrare video, questo tasto permette invece di passare alla libreria per vedere i video che abbiamo. registrato, questo per eliminarli, e impostazioni. L'impostazione è brutto a promosizione, si vede benissimo. Dunque permettono di avere alcuni effetti sulle immagini. avere una correzione per modalità sott'acqua, perché la luce riflessa dall'acqua è ovviamente diversa. Scegliere la risoluzione del video, scegliere la modalità di messa a fuoco, che semplicemente permette di scegliere la modalità macro, può rincodrare quindi oggetti molto piccoli. Il guadagno del microfono, e varie impostazioni, come i suoni, il ministro dello schermo, la data, l'ora. Permette anche di condividere facilmente i video e le foto che abbiamo scattato, con il tasto share. una funzione che, quando si collega al computer, i video avranno automaticamente caricati. Permette inoltre, andiamo qua, allora ha, sullo sportello sinistro, l'attacco USB, e un'uscita HDMI, di cui forniscano anche il cavo, per collegare direttamente la TV. Sull'altro lato, invece, abbiamo semplicemente la SD. E sul fondo, c'è l'attacco per il cavalletto. È una fotocamera buona, creata a posta presa prata in giro, e è utilizzata anche in movimento. Sicuramente ha una funzionalità subacqua, insomma, ne dà un valore aggiunto.